Il Re 2017, Done della Lunga! Eccolo, il nostro re! Il premio viene consegnato dal Vice Sindaco Dottor Tonelli e dal Presidente regionale Fibon Fabio Di Camillo. Eccoli qua, gli sudditi, maestà, abbia clemenza per loro, maestà. Li saluti, li saluti, maestà che loro stanno urlando lunga vita al Re! Lunga vita a questi campioni! Lunga vita ai nostri sovrani! Eccoli che arrivano a prendere il premio dalle mani del Vice Sindaco e del Presidente regionale Fibon Fabio. Un applauso per il nostro re, Done della Lunga!